È polemica fra l'assessore Patrizia Favati e Pietro Bonino, presidente di Federalberghi, sul rapporto fra il turismo e la nostra Lucca. Lo scontro si consuma sulle pagine dei giornali. Dopo le dichiarazioni rilasciate dall'assessore, Bonino tiene infatti a dare la propria versione. Piste ciclabili, sentieristica e sinergie con le zone vicine sono, secondo l'assessore, gli aspetti necessari alla città per riuscire a trattenere i turisti almeno due o tre giorni. Bonino da parte sua, lamentando di non essere stato sufficientemente consultato in materia di sviluppo del settore, chiede a gran voce se davvero questi progetti esistano e quando si intende a partire con la loro realizzazione. In merito ai prezzi degli alberghi, invece giudicati dalla Favati troppo alti rispetto a Pisa e Montecatini, il presidente di Federalberghi fa notare che i proprietari di diversi hotel della nostra città, pur essendo originari proprio di quelle zone, hanno scelto Lucca per iniziare la loro attività, riconoscendola turisticamente più solida. Oltre a questo, Bonino insiste sul fatto che sarebbe necessaria una promozione diversa da parte dell'assessore nei confronti del lavoro svolto dagli operatori del settore, senza criticarlo, anche pensando al fatto che i proventi della tassa di soggiorno aumentano di pari passo con il costo delle camere. Una critica viene anche rivolta alla scarsa partecipazione, secondo il presidente di Federalberghi, da parte del Comune alle iniziative e alle fiere di settore nazionali ed internazionali, per poi mettere l'accento sulla chiusura del punto informativo di Porta Elisa, che ha lasciato sguarnita la zona sud di un servizio importante. Intanto però, Bonino si mostra fiducioso di fronte alla decisione del sindaco di pochi giorni fa di nominare un nuovo consulente per il settore turismo, da affiancare all'assessore al fine di risolvere le enormi difficoltà che, a suo avviso, il comparto sta attraversando.